Sardegna Perverda tutto il mondo a caccia dell'onda perfetta in Sardegna, c'erano anche le nostre telecamere. Vento, onde, adrenalina Kessor fa la mano, una sfida all'ultimo salto Nell'attesa di trovare l'attimo giusto per l'evoluzione perfetta Le condizioni non erano facili, il vento era rafficato Però sono contenta del risultato E così tra una raffica e l'altra Nelle acque di Portopollo in Sardegna Riders da tutto il mondo si sono dati appuntamento Per la prima edizione del Sardegna Grand Slam Ultima tappa del World Guide League In poche parole, gli atleti più forti del mondo sono tutti Forti e coraggiosi, gli italiani non hanno sfigurato Sono riuscito a arrivare al secondo posto E sono veramente contento di questo risultato E spero che l'anno prossimo riesca a fare altri podi sempre internazionali Un debutto per qualcuno, giovani ma anche giovanissimi Quanti anni hai? Quattordici Forza, concentrazione ed equilibrio Sono gli ingredienti fondamentali di questo sport Che conta sempre più appassionati Mentre tra un'onda e l'altra Nella patria italiana del kite Si continua a surfare Grazie a tutti Grazie a tutti